Sì, allora signori buonasera a tutti quanti, buonasera a voi, buonasera anche a voi qui dietro, benvenuti, benvenuti a questo tredicesimo concerto di Ferragosto in onore dei santi patroni della città di Trapani. Vi vediamo qua scritti Santa Alberto, abbiamo festeggiato il 7 di agosto, e la Madonna di Trapani che festeggeremo in conclusione domani qui solennemente al centro storico. Noi siamo la banda musicale Città di Paceco che nel 2007 ha pensato di dedicare una propria serata musicale in questo luogo meraviglioso che è il saluto buono della città di Trapani. L'abbiamo fatta anche perché il 15 agosto non c'era nessuna manifestazione prevista e quindi siccome nessuno era festivo e nessuno voleva lavorare, noi vogliamo farlo con piacere per offrire a voi, Trapanesi, agli amici, ai turisti e a tutti quanti, speriamo una splendida serata musicale in nostra compagnia. Ringrazio il comune di Trapani, il sindaco Giavo Tranchida, qua abbiamo l'assessore Enzo Bruscato che poi darà il saluto a tutti quanti voi. Ringrazio anche l'ente lui musicale trapanese che ha gentilmente concesso e portato queste sedie cui ha permesso di poter sedere, anche se spero e mi auguro che ogni anno possa portare molte più sedie e far sedere molte più persone. Però ci accontentiamo anche di questo poco. La cosa bella è che quando noi montiamo qua, già alle 20 quasi le sedie sono tutte piene, perché la gente o mai aspetta questo concerto e per noi è un onore. Bene, abbiamo detto, iniziamo subito dal vivo al nostro concerto. Il concerto che noi presentiamo è vario, quindi toccheremo vari genere musicali. E quest'anno abbiamo voluto iniziare innanzitutto con volare nel blu di Pito di Blu il ricordo di un grande, cui va il nostro applauso, Domenico Modugno, che quest'anno ricorda i 25 anni dalla sua morte. E quindi abbiamo voluto dedicare a lui questo primo brano d'apertura del nostro concerto. Adesso dedichiamo il prossimo brano alla Vergine Maria, alla Madonna, anche perché siamo nella sua festività. Oggi è la Pasqua d'estate, la Pasqua di Maria, assunta in cielo, domani la festa della Madonna del Crapere. Abbiamo pensato di iniziare il concerto proprio con un'Ave Maria, conosciuta da tutti, fatta in una versione particolare, aranciata per panda. A voi l'Ave Maria di Goulon. Buongiorno a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.